E' ritornata da settembre operativa e funzionante la palestra della scuola di Valverde affidata dal comune di Enne in gestione al centro sportivo italiano. Diverse le attività sportive di base praticate dal calcio a 5 alla pallavolo ma anche mini basket e arti marziali. In questo momento la palestra è impegnata all'attività di pallavolo maschile e femminile, mini basket maschile e femminile e arti marziali. Il calcio a 5 è open per ragazzi oltre i 16 anni. Questa è l'attività che in questo momento si fa. Infatti la palestra è sempre quasi tutte le sere di pomeriggio impegnata materialmente, tranne il sabato e la domenica quando poi si faranno le gare di centro sportivo italiano. Lo scopo dell'apertura di questa palestra è proprio quella di promuovere l'attività sportiva di base per tutti, senza agonismo materialmente ma proprio promozionale. E questo grazie alla sensibilità dell'amministrazione comunale e del sindaco in prima persona che ci ha dato l'opportunità di aprire questa palestra che ormai era da più di 8 anni che era chiusa e anche vantalizzata, siamo riusciti a metterla nuovamente in funzione e a poter dare a tutto il quartiere la possibilità di praticare sport. Infatti il progetto di questa palestra si chiama palestra aperta perché è aperta a tutti, alle società sportive, a qualsiasi società, a qualsiasi gruppo di ragazzi o ragazze che vogliono fare attività sportiva. Al Vielo scorso mercoledì un torneo di calcio a 5. C'è la prima gara di calcio a 5 sempre come attività promozionale. Questo torneo è composto da 7 squadre che partecipano regolarmente.